Benvenuti alla prima sessione di amichevoli di Training Camp. Siamo in compagnia delle squadre Iannuzzi Team e Cozzolino Team. Allora, qui abbiamo la Cozzolino Team. Complimenti per la vittoria, ragazzi. Presentatevi. Io sono Iacomino Matteo. Salvatore Corso. Iacomino Ciro. Ok. Che prospettive avete per il torneo? Cerchiamo di vincere nel migliore dei modi. E a chi volete dedicare il gol? Io lo voglio dedicare a mia mamma perché ieri era il suo nomastico. Io ho una alle mie ragazze e una alla squadra. Io ho tre papere per il mio amico Ciro. Va bene. Qui chiudiamo. Un bacio alla Mavericks. Ciao.